I miei 10 giochi da tavola cooperativi preferiti, togliamo però dalle palle il gatto perché non lo vogliamo in mezzo a questo video. Per chi non lo sapesse, un gioco da tavola cooperativo è un gioco in cui i giocatori, anziché competere tra di loro di modo che solo uno possa vincere, lavorano insieme per arrivare ad un obiettivo, quindi o si vince tutti assieme o si perde tutti. A me stimola già il concetto e fra l'altro è un ottimo modo per introdurre giocatori meno esperti all'ambito del gaming che vada oltre i soliti giochi da tavola di società noti. Quindi per educare nuovi giocatori al pensiero strategico, evitando invece il classico scenario in cui i più esperti blastano i più deboli festeggiando sui loro cadaveri. Ovviamente questa classifica è stata stilata tra i giochi che ho provato io. Ne ho provati tanti di giochi cooperativi, ma non ogni gioco pubblicato nella storia del mondo. E ovviamente si parla di gusto, i miei preferiti. Non è una recensione tecnica per intenderci, non troppo. Ad esempio non troverete dei titoli che in breve tempo sono diventati dei classici del gioco cooperativo, come ad esempio il famoso Pandemic, che è un bel gioco secondo me. Però almeno nelle versioni basi a cui ho giocato io, a meno di specifici incasteri di pura fortuna, è un gioco in cui è difficile vincere. E a me piace vincere. Al decimo posto, Marvel United, di cui ho tutte le espansioni almeno uscite in Italia. Si tratta di un gioco fresco e sbarazzino, molto accessibile al non-gamer, in cui ogni giocatore prende il controllo di un eroe famoso del franchise Marvel e si sceglie un nemico da battere. Il turno di gioco è facilissimo, perché si può scegliere solo una carta, tra le quattro mi pare che si ha in mano, e questa carta fornisce solo due azioni. Fra l'altro la maggior parte delle carte non ha neanche testo, pura proprio grafica e iconografia. E queste azioni sono molto basilari, tipo muoversi, salvare un civile. Qual è però l'elemento sfizioso? Che le due azioni, indicate dalla carta, di cui beneficio io, potranno essere usate anche dal giocatore che gioca dopo di me. Si definiscono risorse condivise. È molto bello, perché quindi non mi devo solo chiedere cosa serve a me in quel momento, ma devo anche fare una scelta che in qualche modo sia utile a chi viene dopo di me. Quindi insomma c'è anche un messaggio di responsabilità sociale. L'estetica è pucciosissima, però attenzione, ed è per questo che comunque mi piace, va calcolato tutto benissimo. Veramente bastano due scelte a caso e si perde. Il gioco è molto semplice, ma bisogna ragionare insieme per veramente contare nel dettaglio tutte le azioni che si scelgono per riuscire a vincere nel numero di turni stabilito. Al nono posto, Mansions of Madness. In italiano, le case del vizio. No, non è vero, le case della follia. Questa è la prima edizione, ma in realtà avere fatto il successo di questo prodotto è stata la seconda edizione, che ha introdotto la Companion App. Adesso si trovano giochi da tavolo che utilizzano un'app da installare sul cellulare, ma in questo caso è meglio sull'iPad, sul computer o da guardare sul schermo, che ha sostituito quello che nella prima edizione era il Master. Quindi il gioco risponde, guida i giocatori, svela nuovi dettagli, ha proprio una forte funzione narrativa e di interazione. L'ambientazione è lovecraftiana e troverete anche altri giochi di questo franchise, Arkham Horror, perché li amo particolarmente. Perché in una posizione, pur essendo nella mia top ten, bassa, proprio di puro gusto, di come l'app risponde, che per me ha dei tempi un pochino lignosi. Il mio stile di gioco è aggressivo e veloce, e dover stare lì ad aspettare che l'app faccia le sue animazioni, mi dia informazioni, sposti cose, mi causa stress, quindi tiro fuori il telefono e mi distraggo. Quindi per me non va benissimo, proprio come esperienza di gioco, ma è veramente un gioiello. All'ottavo posto, Black Orchestra. Questo è un capolavoro tematico. Ambientato durante il terzo write, il gioco ripercorre l'ascesa, ma soprattutto in realtà la fase di caduta, del terzo write, quindi del nazismo. I giocatori interpretano principalmente gerarchi, nazisti, ma anche civili, che in realtà cospirano per uccidere Hitler. Infatti scopo del gioco è organizzare un attentato con cui abbattere il Führer. Tramite un sistema di carte, il gioco ripercorre gli eventi storici in maniera piuttosto accurata, e si sente molto questo clima di tensione. Ci vuole niente a venire arrestati e interrogati dalla Gestapo, con conseguenze piuttosto nefaste. Perché è comunque in una posizione relativamente bassa, pur trovandolo veramente elegantissimo, molto molto bello. Perché? Allora, ha una sua profondità strategica, in cui si deve lavorare il meglio possibile per costruire questo attentato, ma la riuscita effettiva dall'attentato dipende molto dalla fortuna. È un tiro di dati che poi si influenzerà, o con dei bonus, se si è lavorato bene, o con dei malus. Però proprio il concetto è un po' che mi disturba, ma che accetto perché presenta una meravigliosa sinergia tematica. Allora, per chi non lo sapesse, in realtà i tedeschi dissidenti rispetto al regime nazista hanno provato più volte ad ammazzare Hitler, ma lui è sopravvissuto a tutti gli attentati che sono stati fatti, ma anche in condizioni veramente assurde, proprio con botte di fortuna, che l'hanno addirittura portato a un certo punto a dire che evidentemente le sue azioni erano volute da Dio, perché scampava tutti gli attentati. Quindi c'è un profondo senso tematico. Ci si immerge e si ragiona il meglio possibile per cercare di organizzare uno più attentati e poi si spera che vada bene. Al settimo posto, Defenders of the Last Stand. Questa scatola è un po' più grossa. L'ambientazione qui è una sorta di far west post-abocalittico, in cui bisogna sconfiggere quattro leader malavitosi che hanno preso il potere di questa zona. La parola chiave qui è asimmetria. Le abilità dei personaggi che si controllano sono molto diverse tra di loro e i quattro leader sono molto diversi tra di loro. Richiedono strategie diverse e daranno bonus diversi. È fondamentale lavorare bene insieme e pianificare. Pianificare proprio la struttura che si vuol dare alla partita. Qui abbiamo quasi una situazione, per quanto riguarda il mio gusto, speculare a quella di Black Orchestra. Mi piace di più proprio il gameplay, il fatto che una buona attenzione alla giusta tattica produrrà dei risultati. Mentre il tema mi fa cagare. C'è un po' la Mad Max, ma questo far west post-apocalittico, di peggio posso immaginare solo un gioco sul calcio. Sesta posizione per Descent. Ma attenzione con la Companion App. Perché il gioco di per sé nasce alla prima edizione, di cui ho tutto, non come cooperativo. Un giocatore fa l'Overlord, il Signor Oscuro, che di solito ero io. In quella modalità di gioco che io definisco Gang Bang, tutti contro uno. La seconda edizione, anche quella nasce con l'Overlord, ma con lo sviluppo tecnologico viene introdotta la Companion App, che in maniera non perfetta, perché il gioco non è nato così, infatti a volte i giocatori devono prendere delle decisioni secondo la regola per cui devi chiederti cos'è la cosa peggiore che ti possa capitare e interpreti così il regolamento. Però non è molto intuitivo. Però funziona. Funziona quest'app che ti consente di scegliere quali espansioni hai, quali eroi vuoi utilizzare, quale campagna vuoi utilizzare e questo gioco, che nasce con una sorta di versione evoluta di Hero Quest, con delle forti componenti da gioco di ruolo, quindi di costruzione e sviluppo del personaggio, si sviluppa ulteriormente. Funziona soprattutto in questo caso in modalità campagna che ti dà appunto la possibilità di continuare a far crescere il personaggio. L'app si occupa della storia, però rispetto alle case della follia è molto più agile, è veramente un botta risposta in cui ti dice velocemente che cosa fanno i nemici, perché è sostanzialmente un gioco di combattimento, la parte di narrazione è molto contenuta. Esiste anche la terza edizione del gioco che è andata, in questo caso proprio nasce per andare in questa direzione, che però a me non piace però è questione di grafica, di estetica e per me è fondamentale. Quinto posto per Mysterium o si trova anche con il titolo del Sesto Senso. Ora non ricordo bene la storia editoriale, però si trova in diverse versioni, ma il concetto è sempre quello. È un gioco sempre cooperativo in cui un gruppo di sensitivi deve ricostruire che cosa è avvenuto a livello tematico una sorta di cluedo, quindi chi è stato, dove, con che arma, ma poi il gioco è completamente diverso, a parte un giocatore che interpreta il fantasma, il quale sa, conosce le storie e deve farle indovinare comunicando con delle immagini. A me questi giochi piacciono molto, da un lato viene meno la componente prettamente logica, che a me è congeniale, però io ho anche un pensiero fortemente visivo, quindi li trovo molto stimolanti questi giochi. In particolare, mi piace il ruolo del fantasma, che non può parlare, può solo comunicare tramite immagine ed è stimolante ascoltare poi i ragionamenti degli altri giocatori. Ma è bello anche con il ruolo dei sensitivi cercare di interpretare, confrontarsi. Può anche essere però una tortura. Allora, è una tortura se il giocatore che interpreta il fantasma non riesce a svincolarsi dalle sue stesse nozioni e fa associazioni che sono note solamente a lui, quindi incomprensibili agli altri. Mentre quando sono io il fantasma, io odio quando gli altri giocatori non ragiono in maniera lineare come faccio io. Cioè, per intenderci, mettiamo che per far indovinare la location della piscina io do una carta con sopra dell'acqua. Per me è collegamento abbastanza forte. Mi capita di sentire ragionamenti del tipo mi ha dato l'acqua l'acqua fluisce quindi il cambiamento costante cambiamento cambio d'abito mi sta chiaramente indicando un guardaroba. Ecco, questa roba per me è una tortura se ho dato l'acqua era la piscina non il guardaroba. Al quarto posto Eldritch Horror spin-off del più noto Arkham Horror ma per me nettamente migliorativo. In comune con Arkham Horror c'è il fatto che i giocatori interpretano degli investigatori tratti dai racconti di Lovecraft e devono prevenire il risveglio di un grande antico. Arkham Horror però per me è un po' legnoso e molto ripetitivo. Eldritch Horror invece ha aggiunto tantissima varietà. Innanzitutto i giocatori si spostano a livello tematico in tutto il mondo e i grandi antichi cambiano molto contro cui ci si sta battendo cambiano molto la partita e fra l'altro c'è un mazzo di misteri si chiama da risolvere che genera tre misteri che cambiano di partita in partita quindi c'è molta più varietà poi avendo tutto ciò che è stato pubblicato ho tantissima varietà anche negli esploratori è un gioco fra l'altro che si presta molto questo a introdurre giocatori poco esperti perché in questo caso funziona bene la figura del team leader che cos'è? Generalmente è considerato un difetto ossia quando nei cooperativi il giocatore più esperto inizia a prendere le decisioni per tutti e non va bene perché se anche poi questo conduce alla vittoria giocare significa prendere delle decisioni se i giocatori non possono prendere le loro decisioni non hanno giocato quindi hanno vinto ma non si sono divertiti in questo caso invece un po' di leadership funziona bene perché i giocatori comunque si godono tutta la parte tematica e poi comunque possono prendere le loro decisioni però ecco sono anche loro più sicuri se il giocatore più esperto li instrada sulla direzione da prendere per intenderci è un gioco che amo fra l'altro è stata introdotta anche una modalità campagna e che quindi consiglio siamo arrivati al podio la top 3 quindi i miei tre giochi preferiti in assoluto tra quelli cooperativi al terzo posto Arkham Horror che vi avevo detto che non c'era ma in realtà questo è il gioco di carte che per me è stata semplicemente una rivoluzione è un gioco in cui ci si costruisce un mazzo prima della partita come può venire per Magic per intenderci e dopo vi spiego la peculiarità di questo mazzo e con questo si affronta una storia la storia si dipana è una campagna attraverso otto capitoli di solito durante i quali il mazzo continuerà a modificarsi acquistando diciamo carte più potenti l'ambientazione tematica è meravigliosa le campagne sono diversissime tra loro gli scenari sono diversissimi tra loro c'è dietro una quantità di ingegno e di estro che è veramente commovente perché ogni scenario ha regole diverse sembra di giocare veramente a un gioco diverso ogni volta e che consente fra l'altro di sperimentare le potenzialità di tutti i personaggi se come me avete tutto la vostra sofferenza deriverà dal fatto che in vita vostra non potrete provare tutte le combinazioni possibili gli investigatori si dividono in cinque macro categorie con dei vincoli di costruzione del mazzo ma le carte tra cui scegliere sono un'infinità è semplicemente un gioco stupendo e che soffro a mettere al terzo posto perché questi tre adesso che vado a citare per me se lo giocano un po' tutti in questi faldoni ho organizzato le campagne gli scenari unici e questi invece raccolgono tutte le carte che si possono mettere nei mazzi secondo posto per Spirit Island vi dico solo che questo gioco io l'ho da circa sei mesi sette mesi è già arrivato al secondo posto nella mia classifica dei giochi cooperativi preferiti di sempre questo dice qualcosa di tutti i giochi che ho citato oggi è l'unico che possa essere considerato un German per chi non lo sapesse diciamo una macro categoria in cui si ascrivono giochi più strategici con un ridotto impatto della fortuna e solitamente con un'attenzione minore sull'aspetto estetico o produttivo anche se questo è visivamente gratificante a livello tematico ogni giocatore interpreta uno spirito una divinità che viglia su quest'isola in armonia con le popolazioni autoctone proteggendola invece dagli invasori quindi siamo nel 600 secondo me 600 o 500 e arrivano invasori dall'Europa fra l'altro c'è modo anche di scegliere la nazionalità degli invasori e quindi bisogna proteggere l'isola quindi è anche un gioco anticolonialista il gioco è fortemente asimmetrico ogni divinità ha azioni e un mazzo molto specifici che poi andranno a crescere e il modo migliore per vederlo è un puzzle è un puzzle si ha all'inizio l'impressione di subire il gioco come faccio come faccio a stare dietro agli invasori ma si trova il modo lavorando insieme di incastrare tutto per fermarli è una sorta di puzzle che evolve si trasforma e ogni volta bisogna trovare la risposta attenzione buona parte dei titoli che ho citato sono per un pubblico di gamer ma questo li batte tutti è proprio molto escludente nei confronti di giocatori poco esperti proprio bisogna lavorare di testa tenendo a mente tantissime informazioni e lavorando con turni d'anticipo è tosta però da lì la soddisfazione nel vincere inoltre questo gioco previene quello che vi ho detto essere generalmente un problema quello del team leader perché non è possibile tenere a mente le informazioni di tutti gli altri giocatori a parte che alcuni non sono neanche note perché sono in mano ma si potrebbero chiedere ma è proprio una questione proprio di capacità di computazione è impossibile ognuno deve fare il suo poi finché si gioca in due giocatori io effettivamente riesco a giocare per due giocatori però già da tre in su è impossibile ognuno deve fare la sua parte discutendo con gli altri veramente meraviglioso primo posto deciso meramente sul fattore del mio gradimento personale di quanto mi diverto a giocarci e rigiocarci Marvel Champions questo gioco presenta in realtà fortissime analogie con il gioco di Arkham Horror tant'è che il motore per certi versi è lo stesso però questo è molto più leggero in questo gioco si interpreta come Marvel United un eroe del mondo del mondo Marvel e si sceglie di volta in volta quale nemico affrontare anche in questo caso si costruisce il proprio mazzo secondo delle regole allora già il proprio eroe avrà delle carte specifiche con un funzionamento diversissimo da eroe a eroe quindi veramente anche qui ogni volta ho un gioco diverso ogni volta decido che aspetto dare al mio eroe tra quattro ad esempio uno più legato all'attacco uno sulla difesa uno sul lavorare sugli alleati e via dicendo fra l'altro scelto un aspetto quindi gioco a quattro opzioni le carte ascrivibili a quell'aspetto sono tantissime quindi se io lo faccio rosso che è il mazzo dell'attacco comunque ho tanti modi di farlo rosso che lavoreranno in sinergia diverse con le caratteristiche del mio eroe quanti eroi ci sono? un'infinità avete presente il meme con lo shut up and take my money io sono così perché teoricamente una volta al mese poi con la distribuzione in Italia non è proprio così ma esce un nuovo eroe o un nuovo nemico ogni volta con carte utilizzabili anche negli altri mazzi veramente è un universo è un universo con combinazioni infinite ok dal punto di vista matematico non sono tecnicamente infinite ma nella percezione umana sono infinite in queste scatole vedete solo gli eroi tra cui scegliere non la marea di carte con cui personalizzarli e adesso fra l'altro hanno iniziato con gli X-Men e tipo lei è ovviamente il mio personaggio preferito e sto godendo come un porcello è credo il gioco cooperativo a cui ho giocato più ore in assoluto e di cui faccio fatica a stancarmi proprio per la modularità di questo gioco persino i nemici oltre a essere tantissimi avendo preso come ho fatto io tutte le varie campagne consentono di essere personalizzati con questi mazzi modulari ad uso strettamente personale mi sono realizzato da solo questo playmat gigante per quattro giocatori per migliorare l'ergonomia delle componenti perché teoricamente andrebbero ruotate di 90 gradi ma quando si gioca in quattro con tantissime carte è un po' scomodo mentre in questa modalità semplicemente si tirano verso l'alto rivelando la parte con la X che significa carta esaurita e di nuovo per uso personale ho messo anche il logo della Marvel ho preso illustrazioni non mie e questa cosa ve lo dico non chiedete ma non può essere commercializzata l'ho realizzata e stampata appunto per uso casalingo però ne sono veramente veramente fiero perché è enorme anche questo è un gioco per gamer se un non gamer apre il regolamento e cerca di leggerlo sviene se non siete gamer datevelo come obiettivo di arrivarci giocando prima a giochi più semplici soprattutto se siete fan della Marvel questa era la lista dolorosamente stilata perché erano troppo pochi da scegliere dai miei 10 giochi cooperativi preferiti spero di avervi dato qualche suggerimento utile buon divertimento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti